Il Consiglio regionale vara la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023 della Regione, approvato con legge regionale 46-2022. Il provvedimento passa a maggioranza, con 23 voti a favore e 12 contrari. Si tratta di modifiche agli stanziamenti di spesa, che lasciano sostanzialmente inalterati i volumi complessivi del bilancio. Una traslazione di risorse per 46,92 milioni di euro, che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale. Una manovra importante, anche se molto puntuale, è riferita soltanto ad un aspetto, cioè a quello del riequilibrio dei conti del servizio sanitario regionale. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana, come del resto, da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione. Si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la Regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. C'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della Regione Toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario, rispetto alla quale la Regione Toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata, semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Non è inutile che ci vengano a dire in aula, noi facciamo debito perché fermiamo prestazioni. Non è vero, non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici, sempre più dei vostri amici, perché create in continuazione i posti dirigenziali anziché dare prestazioni. Sostanzialmente si continua a navigare a vista, ci sono difficoltà, lo sappiamo per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari, sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano e si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il Covid, però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. A questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari e poco importa che in questo momento e solo in questo momento la giunta regionale invochi un intervento del governo perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo. Con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022 che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata e cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% dei PIL, il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8% di Germania, di Francia, contro il 7,5% della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario. se volessimo essere al pari di Germania e Francia o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte, altrimenti le regioni saranno sempre costrette a dover fare variazioni, adeguamenti ma che tentano di mettere una toppa rispetto al grande problema che è un vero finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Proiettarsi avanti nel tempo e immaginare la Toscana del 2050, pensare insieme ai bisogni delle nuove generazioni, far crescere la regione del futuro. All'Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha avuto luogo uno sguardo per anticipare il futuro, primo evento di restituzione del progetto promosso dal Consiglio regionale attraverso la revisione della legge 46 del 2015, un progetto proposto dal Presidente dell'Assemblea Legislativa e sostenuto dall'interufficio di Presidenza. Oggi racconteremo la Toscana del 2050 attraverso gli occhi delle bimbe e dei bimbi della nostra regione, attraverso gli occhi dell'intelligenza artificiale, attraverso gli occhi e le parole di Giovannini che ci racconterà da esperto del settore come la Toscana si sta muovendo. Compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi, di farlo tutti insieme con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e ai cittadini della Toscana un indirizzo della strada da perseguire perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso. È intervenuto anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Sono convinto che in realtà la Toscana da qui al 2050 potrà costruire quel livello di modernizzazione infrastrutturale, di accoglienza, di sistemazione del rapporto fra tecnologie e qualità della vita che sicuramente renderà ancora questa regione un punto di riferimento nel mondo. Si lavora sul concetto del benessere attraverso alcune tematiche principali, il cambiamento climatico, l'acqua, la salute, il lavoro, la cultura, cercando di individuare il miglior sviluppo possibile delle città e del territorio. L'attività ha previsto alcuni tavoli tematici collegati tra loro che pongono una serie di interrogativi ma anche grandi opportunità. Oggi in Toscana qual è la criticità che preoccupa di più? Sono le tante diversità, le tante fratture che noi cogliamo su un piano generazionale, su un piano di sviluppo, di connessione, su un piano di competitività. Quindi credo che l'impegno della comunità tutta, in tutti i suoi attori, debba essere proprio quello di colmare queste distanze e consentire a ognuno di noi di partire quantomeno dallo stesso punto di partenza. La Toscana che verrà avrà una fisionomia che comincia a definirsi sotto la lente demografica. Come ha spiegato l'economista Stefano Casini, benvenuti. Nel 2050 avremo più o meno 200.000 abitanti in meno. L'età media delle persone si allungherà molto, avremo un'età media intorno ai 50-51 anni. Soprattutto la speranza di vita, che è una delle conquiste più importanti degli ultimi anni, degli ultimi decenni. La speranza di vita si avvicinerà ai 90 anni. Pensate che nel dopoguerra era 65 anni, nel 51 era 65 anni, arriverà a circa 90 anni. Quindi abbiamo guadagnato qualcosa come quasi 25 anni di vita, e sono 25 anni di vita migliore anche perché si vive meglio, non è che si vive solo più a lungo, si vive anche molto meglio. Certo questo ha due facce, la faccia positiva che ho detto ora, si vive più a lungo e quindi è una conquista. La faccia negativa è che ci sono molti anziani rispetto ai giovani. Anche qui alcuni numeri sono indicativi. Nel 51, quindi nel dopoguerra, 10 giovani, 4-5 anziani. Un secolo dopo, 10 giovani e 31 anziani. Quindi capite come si è rovesciato completamente il quadro. Immaginare la Toscana del 2050. Come possiamo nel 2023 spingerci tanto lontano da immaginare come sarà la regione tra 27 anni? E soprattutto, come dovrebbe essere? Beh, è meravigliosa quanto oggi, ma soprattutto dovrà puntare sull'innovazione in tutti i campi in cui è già eccellente. Quindi guardando al futuro, sapendo quali sono le tendenze rispetto alle nuove fonti in energia, ad esempio nuovi modi di fare turismo, un tema anche di rigenerazione dal punto di vista ecologico, di biodiversità. Questi sono i grandi temi su cui tutti dobbiamo puntare, che non possiamo dimenticare. Sulla base di questi, tutte le decisioni che riguardano su quale industria investire, quali prodotti produrre, come produrli, come formarci, come educarci, devono andare di conseguenza. La giustizia è il tema centrale del libro La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia, di Anna Maria Frustaci, edito da Mondadori. Il volume è stato presentato nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso, gremita dagli studenti di due classi di terza delle scuole fiorentine Carducci e Pestalozzi dell'Istituto Centro Storico Pestalozzi. La presentazione è stata anche, soprattutto, una lezione e un momento di confronto con i più giovani, su che cosa sia la mafia e su come combatterla. L'autrice è nata a Catanzaro ed è magistrato del pur antimafia creato nella città dal procuratore Nicola Gratteri. Da circa due anni è sotto tutela per il processo all'Andrina Soriano di Filandari e per il processo rinascita a Scott. La lotta alla criminalità organizzata non passa attraverso solo le azioni giudiziarie, ma passa attraverso la costruzione della cultura della legalità. Io sono davvero felice di poter presentare oggi qui questo libro, perché, insomma, il racconto di Lara, il racconto della dottoressa Frustaci, è un po' anche il punto di partenza del mio impegno nelle istituzioni, nel mio servizio civile, era il 23 di maggio del 1992, ero in un piccolo paesino della Basilicata con tante ragazze e ragazzi, era un momento di festa. Poi ad un certo punto fummo raccolti tutti in una stanza e ci fu comunicato dell'attentato subito dal giudice Falcone, sua moglie, la sua scorta. E lì le risate divennero pianto, disperazione, paura, ma anche voglia di reagire in quei giorni. E poi il 19 di luglio dello stesso anno, la morte di Paolo Borsellino, e poi la strage dei Giorgofili nel 1993 qui a Firenze. Insomma, parte del nostro impegno nelle istituzioni, della mia generazione, parte proprio di lì, dalla lotta alla criminalità organizzata, l'impegno a non voltarsi dall'altra parte. Io alle ragazze e ragazzi dico sempre non siate indifferenti, non voltatevi dall'altra parte. In Toscana non c'è la mafia che uccide, però c'è una mafia, una criminalità organizzata, che prova ad infiltrarsi, prova a entrare nelle nostre attività imprenditoriali. Compito di ciascuno di noi è costruire cultura della legalità. E oggi siamo qui per questo e sono davvero felice di poter presentare questo libro. La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia è una storia in parte autobiografica, in cui la protagonista, l'adolescente Lara, che vive in un piccolo paese della Calabria, impara molto presto che nella sua terra esiste un malcostume fatto di violenze soprusi, che non ha riscontro con la laboriosità e onestà della sua famiglia e di tante persone. L'incontro con un magistrato e l'ispirazione tratta dalle figure eroiche di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le faranno scegliere la strada del suo futuro. Racconta la storia di una Calabria negli anni 90 che vive l'esperienza delle mafie, l'esperienza in particolare dell'andrangheta, in un momento che è stato cruciale poi per l'inizio delle stragi, della stagione delle stragi che ha avuto inizio in Campo Calabro con la morte della giudice Antonino Scopelliti che avrebbe dovuto sostenere l'accusa dinanzi alla Corte di Cassazione come sostituto procuratore generale nel maxiprocesso di Palermo e chiedere le condanne definitive ottenute dai giudici Falcone e Borsellino. I protagonisti principali sono i magistrati che hanno dato la vita per affermare un mondo nuovo, diverso, ispirato ad una giustizia che è stata vissuta anche come impegno importante fino appunto a pagare un prezzo altissimo, quello della loro vita. Però la figura dei giudici Falcone, Borsellino e del giudice Antonino Scopelliti è accompagnata dal racconto di protagonisti che hanno 13 anni. Il significato è quello di voler aprire anche a giovani lettori e a giovani lettrici la consapevolezza della lotta alle mafie che parte dalla scuola, dall'istruzione, dalla formazione e da una cultura della legalità.